Buonasera, allora vi faccio vedere cosa preparo per cena. In Campania li chiamano puparulli imbuttonata, anche se generalmente usano le persone, molte persone usano dei peperoni molto più grandi, guardate che bei colori. Io uso questo formato qua, vedete, in base alla mia mano. Allora li ho svuotati, li ho lavati e li sto riempiendo con questa farcia. Allora è un panino ammollato con un pochino di acqua, due cucchiai d'acqua, un panino integrale, poi ci ho aggiunto un pomodorino tagliato a pezzetti, del prezzemolo, uno spicchio d'aglio a pezzettini, capperi, olive e un cucchiaio di parmigiano e un uovo. Adesso li riempirò, adesso vi faccio vedere, vedete, adesso li riempirò, arriverò fino a tre quarti del peperone, non lo riempirò intero perché essendoci l'uovo crescerà in cottura. Giusto un filo d'olio, poco poco sale perché ci sono i capperi che sono salati e un po' di frutta vicino, adesso riempirò anche questi, un po' di frutta vicino e la cena è pronta perché ci sono i carboidrati del pane, ci sono le proteine del formaggio e dell'uovo e quindi è una cena completa.